Subito dopo il viaggio storico di Barack Obama che comincia oggi, a Cuba sarà la volta dei Rolling Stones. Il concerto dell'altrettanto storica band è in agenda per venerdì prossimo. Mick Jagger e i suoi saranno i primi musicisti del rock globale a esibirsi a Lavana dopo il digelo diplomatico con gli USA.